Gli inquirenti sono al lavoro per capire l'origine della lettera di minacce che è stata recapitata al dipendente dell'SM Fabio Ianni. Una lettera con minacce di morte chiare. Il destinatario è Fabio Ianni, responsabile del servizio macerie e eogeneo urbana dell'SM. Un articolo di giornale con la lettera che riportava la notizia dell'uccisione di un collaboratore di giustizia legato all'andrangheta, Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello del pentito Girolamo, ammazzato nel dicembre scorso a Pesaro. Accompagnata dalla scritta, Fabio Ianni deve fare la stessa fine. Questo è il contenuto della lettera anonima che ora ovviamente è al baio delle forze dell'ordine. A queste il dipendente dell'SM si è rivolto per sporgere denuncia subito dopo aver aperto la busta. Una busta che è arrivata con franco bollo all'indirizzo dell'azienda nella posta ordinaria. È la prima volta che un dipendente dell'SM riceve delle minacce di questo tipo. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi al momento, neanche quella della pista interna. Solidarietà a Fabio Ianni è stata espressa dalla funzione pubblica della CGL che condanna ogni forma di violenza che mina la serenità personale e familiare di ogni lavoratore. Le gravissime minacce subite dal responsabile del servizio macerie ed igiene urbana dell'SM non devono essere sottovalutate, ha detto invece il responsabile provinciale Piero Peretti. Siamo sicuri che il vigliacco gesto intimidatorio non fermerà l'operato del bravo dirigente, non condizionerà l'attività dell'SM. Vicinanza al funzionario Fabio Ianni e anche dai consiglieri d'opposizione del Comune dell'Aquila tramite Stefano Palumbo. Per il vile e deprecabile atto di intimidazione di questo oggetto si tratta di un segnale inquietante e inaccettabile che ci indigna e preoccupa hanno scritto.